Negli ultimi sei anni le risorse a disposizione delle famiglie italiane si sono ridotte di oltre 70 miliardi di euro. E' quanto emerge in una ricerca sulla fiscalità in Italia elaborato dall'ufficio studio di Confcommercio, che indica come cause principali le manovre correttive dei vari governi che si sono succeduti e la perdita di potere di acquisto provocata dall'inflazione. Nel dettaglio, tra il 2008 e il 2013, le manovre correttive di finanza pubblica hanno determinato un aggravio di imposte per il sistema economico italiano di circa 60 miliardi di euro, con un aumento delle imposte sulle famiglie pari all'1,6% medioannuo, il 10% in sei anni, mentre la perdita di potere di acquisto è stimata in 11 miliardi.